Allora, quali sono le vostre rivendicazioni? Praticamente noi sono tre mesi che non riceviamo lo stipendio per problemi sia dell'azienda che del comune e quando alla fine noi operare ci andiamo da soldi, sono tre mesi che non prendiamo lo stipendio perché noi abbiamo fame, abbiamo voglia di mangiare, abbiamo i nostri figli che devono mangiare perché ci stanno mettendo in condizione di essere sperazione totale. Noi siamo arrivati al punto che questa è una cosa che la portiamo a termine fino all'ultimo momento, non ci tiriamo indietro assolutamente perché noi vogliamo i soldi. Come fanno loro la flessibilità? Le vogliamo fare con i nostri diritti. Questo è un problema che l'azienda e il comune sono abbessicciate tra di loro, West Elite, Nuova Ecologica, Termotecchia, a noi non ci interessa niente, noi lavoriamo e vogliamo i soldi, i problemi comuni e l'azienda se la devono vedere tra di loro, noi non c'entriamo niente, vogliamo solo soldi e basta, noi lavoriamo e pretendiamo i nostri diritti. E quando riprenderà la raccolta? La raccolta non riprenderà affinché noi, il comune o l'azienda non viene da noi a portarci i soldi perché se non porti i soldi non si retirerà sicuramente nessun sacchetto fino a quando noi facciamo di tutto, facciamo di tutto. Grazie.